Buonasera, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca. Due giovani di 19 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia stradale di Battifolle nei pressi di Arezzo lungo l'autostrada del Sole. Nella loro auto è stato trovato un chilogrammo di hashish ed un altro chilo e 300 grammi è stato trovato nella casa di uno dei due. Si tratta di due ragazzi residenti a Castiglione Fiorentino e Foiano. Stavano transitando sull'autosolo in direzione sud attorno alle ore 22 quando gli agenti durante un controllo di pattuglia sabato scorso hanno notato l'atteggiamento nervoso dei giovani. I poliziotti hanno quindi perquisito la vettura e sotto i sedili hanno rinvenuto la sostanza stupefacente. Sono quindi state attivate le perquisizioni anche alle abitazioni dei ragazzi dove è stato trovato anche del danaro oltre 1000 euro ritenuto collegato alla attività illecita. Il giudice monocratico di Arezzo oggi ha convalidato per i due gli arresti e disposto i domiciliari. Sempre più grandi cateni industriali dei commerci e grande distribuzione, sempre meno artigiani che vanno a scomparire, a lanciare l'allarme, è l'ufficio studi della CGA che ha elaborato i dati dell'Inps e di infocamere movimprese. Idraulici, calzolai, fabbri, sarti ormai sono in via di estinzione. A dirlo è l'ufficio studi della CGA che ha elaborato i dati dell'Inps e di infocamere movimprese, tante le botteghe che non hanno più tirato su la saracinesca. Attività si legge nello studio nella stragrande maggioranza dei casi a conduzione familiare che ha contraddistinto la storia di molti quartieri, piazze e vie delle nostre città. Arezzo è una di quelle in cui le chiusure sono state più importanti da un punto di vista numerico. Dal 2011 al 2023 è scomparso il 24% di queste attività. Solo nel 2011 erano oltre 16.000, nel 2023 sono ridotte a 12.000. I motivi sono molteplici. L'invecchiamento progressivo della popolazione artigiana, provocato in particolar modo dalla mancanza di ricambio generazionale. La feroce concorrenza esercitata dalla grande distribuzione e dal commercio online. Il boom del costo degli affitti e le tasse. Non tutti i settori hanno subito questa crisi. Si salvano quelli legati al benessere, all'informatica e al settore alimentare. Si parla ancora di zanzare presso l'ospedale del Valdarno che sembra invaso da questi insetti. Il sindaco di Montevarchi, Chiassai Martini, replica l'Asle. Nessuna prevenzione, solo disinteresse. Pronto soccorso è invaso e il problema non è stato risolto con l'ultima disinfestazione. Serve un intervento risolutivo quanto prima. Sentiamo. Il problema delle zanzare non si è risolto dopo la disinfestazione del pronto soccorso. È il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, a replicare all'Asle ancora sul caso delle zanzare all'ospedale della Gruccia in Valdarno. Il ruolo dei comuni, prosegue la Chiassai, rispetto alla questione delle zanzare è chiaro e stabilito dalle direttive della regione toscana, che indicano anche i prodotti che obbligatoriamente devono essere usati. La nostra amministrazione, come ogni anno, ha effettuato quattro interventi non turni preventivi sugli insetti, nelle zone di Montevarchi e nelle frazioni di Levane e Levanella. Una buona prevenzione può contenere i problemi legati alla presenza delle zanzare, ma non può debellarle. Mi chiedo, dice ancora la Chiassai, se la struttura ospedaliera abbia provveduto per quanto di sua competenza ad effettuare le disinfestazioni preventive. Sorge questo dubbio perché mi stanno arrivando ancora dai cittadini documenti fotografici che continuano anche in questi giorni a testimoniare che il problema c'è ancora. Chiedo ufficialmente all'Asle di provvedere in maniera straordinaria anche sull'esterno dell'area di sua competenza, oppure dichiarare uno stato eccezionale per la quantità di zanzare e dare la possibilità anche ai comuni di agire in via straordinaria. Una lettera arrivata alla nostra redazione lamenta il mancato intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno dopo l'alluvione del 2019, quindi dopo cinque anni, mentre lo stesso sta approntando, secondo sempre il detesto di questa lettera, lavori per opere ritenute inutili. Grazie a Settimelli. Siamo di Policiano e vorremmo denunciare il grande lavoro che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sta facendo nei pressi del distributore. Inizia così una lettera arrivata alla nostra redazione dove appunto alcuni residenti di Policiano polemizzano sui lavori del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno. Stanno facendo una cattedrale nel deserto, prosegue la lettera, e dove invece avvenne la catastrofica alluvione del 2019 non sono minimamente intervenuti. Questi buttano via i soldi per niente. Stanno bruciando 360 mila euro. Il Consorzio risponde così. Sì, è un intervento di Bonifica Montana, per cui non è un intervento lineare su un corso d'acqua specifico, ma è un intervento per rifare un riassetto idraulico di un intero bacino. Per questo va fatto per stralci. In questo momento noi siamo in dirittura del Ribo, stiamo terminando il primo stralcio finanziato con l'ordinanza 82, un'ordinanza commissariale avvenuta nel post alluvione 2019 proprio con l'intento di andare a mitigare il rischio nelle aree colpite. Questo primo stralcio è uno stralcio fatto con tecniche di ingegneria naturalistica e va a mitigare il rischio in quest'area specifica. È già previsto e progettato un secondo stralcio, di cui abbiamo già chiesto il finanziamento alla regione troscana nello strumento del DOZ. Sicuramente ci sarà bisogno di ulteriori studi e ulteriori progetti per mettere in sicurezza anche altre zone di questo territorio. È stata fatta un'analisi sul bacino idrografico per individuare le principali criticità. La criticità maggiore era una diffusione incontrollata dell'acqua all'interno dei terreni, in quest'area qui. Il nostro progetto consiste quindi nella realizzazione di due canalette che consentano una canalizzazione controllata di tutta quest'acqua che andrebbe se no a disperdersi nei campi e a creare rischio per le case e per le strade. Questi progetti sono stati progettati da professionisti concordati con la regione toscana in un'ottica proprio di insieme, in un'ottica di area, per cui ci sarà bisogno di intervenire per step successivi proprio per sanare una problematica che è appunto una problematica diffusa. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di giostra del Saracino, perché dopo il ferragosto si ricomincia a parlare della nota rievocazione storica del nostro torneo cavalleresco. La lancia d'oro verrà portata nella sede del quartiere vincitore che la sera del 1 settembre farà più punti sul cartellone di Buratto. Il re delle Indie per Porta Santo Spiriti sarà l'occasione per fare il cosiddetto cappotto, mentre per gli altri tre l'opportunità di riscatto dall'edizione di giugno. Si comincerà sabato 24 agosto quando verrà presentata la nuova lancia d'oro dedicata all'ottavo centenario delle stimmate di San Francesco a Laverna. Domenica 25 alle 11 la consueta estrazione dell'ordine delle carriere ed il giuramento dei capitani davanti al Palazzo Comunale. Poi dal giorno successivo ci saranno le prove in Piazza Grande dei Giostratori e giovedì 29 agosto la simulazione di cara in Piazza Grande alle ore 17. Venerdì 30 sarà la volta della prova generale alle 21.30 con la gara dei giostratori di riserva ed il trofeo dedicato alla memoria del professor Giuseppe Pasquini. Sabato 31 la bollatura dei cavalli sul sagrato di Piazza San Francesco alle ore 11.30. La sera le cene propiziatore presso le sedi dei quartieri. Domenica poi il primo settembre. La mattina ci sarà la lettura del bando in quattro punti del centro storico della nostra città e poi a seguire nel primo pomeriggio la benedizione da parte dei sacerdoti per quello che riguarda i singoli quartieri nelle proprie sedi, nelle chiese di appartenenza e poi quella generale al Duomo da parte del Vescovo. Infine il corteggio storico fino ad ora diciassettesima quando dopo il colpo di mortario ci sarà il via alle ostilità. Saranno 350 i coristi da tutto il mondo che arriveranno a D'Arezzo nei prossimi giorni per la 72esima edizione del concorso polifonico internazionale Guido D'Arezzo. Domani la presentazione ufficiale con la consueta conferenza stampa. Sentiamo le anticipazioni nel prossimo servizio di Chiara Sadotti. Dalle Filippine a Don Kong, 350 coristi da tutto il mondo ad Arezzo per il festival corale più antico d'Europa. È tutto pronto per il polifonico che dal 20 al 25 agosto porterà concerti, concorsi, convegni e masterclass con esperti ed artisti da tutto il mondo nei luoghi più suggestivi della città di Guido Monaco. Un programma che spazia dalla musica sacra a quella profana, passando per il canto liturgico medievale e il canto popolare. Gli eventi, tutti ad ingresso libero, si terranno tra l'Auditorium Carum All Guido d'Arezzo, il convinto nazionale Emanuele II, la Basilica di San Domenico, il teatro Pietro Aretino, la Fortezza Medicia e la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato. Ad inaugurare il festival il concerto presso la Basilica di San Domenico con il prestigioso Camer Corps, uno dei principali cori da camera della Germania, guidato dal suo fondatore e direttore Georg Grun. Cuore del programma è il 72esimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, insegnito della medaglia della Presidenza della Repubblica, che vedrà le esibizioni di 350 coristi provenienti dalle Filippine a Don Kong, dall'Italia alla Germania, dalla Spagna alla Francia, sino alla Polonia e l'Indonesia, undici eccellenze della musica corale internazionale che saranno valutate da una giuria d'eccezione. Nel Parco della Fortezza Medicia, venerdì 23 agosto alle 21.15, invece il 39esimo Festival Internazionale di Canto Popolare, durante il quale si esiberà come coro ospite quello folcloristico dei Cardellini del Fontanino. Sabato 24 agosto, infine, all'Auditorium Carum All, l'appuntamento da non perdere con la proclamazione del vincitore del Gran Premio Città d'Arezzo. E continua la polemica riguardo la nuova maglia della squadra Amaranto, quindi dell'Arezzo, sia per il servizio fotografico fatto sotto l'altare della cattedrale, che per l'estetica della divisa. Omaggiare la Madonna del Conforto sulle maglie dell'Arezzo è una cosa positiva anche per i non religiosi, perché è uno degli emblemi e simboli della nostra città, come i monumenti, la chimera, la minerva, il crocifisso di Cimabue e la giostra. L'anno scorso è stata messa anche sullo sfondo l'immagine della pieve. Tuttavia è stato deciso di non portare avanti l'immagine nota con le due bande a punta dello scorso anno che hanno fatto anche la storia della maglia della squadra negli anni Ottanta in Serie B. Per l'immagine della Madonna si è preferito riempire la spalla del cosiddetto trapuntino della nonna invece di una più sobria icona. Ma sentiamo anche il parere di una persona coinvolta nei fatti perché ha concesso di fatto l'altare, anche l'accesso al fotografo e ai modelli e alla modella soprattutto, di posare sotto l'altare. Vediamo che cosa ne pensa appunto il parco della cattedrale. Don Alvaro Bardelli. Abbinare una cosa importante, un simbolo della città come l'Arezzo, la squadra, a un altro simbolo così importante come la Madonna. Benissimo, anzi contentissimi. E Don Alvaro Bardelli, parroco del Duomo di Arezzo, a gettare acqua sul fuoco dopo quanto è accaduto sulle nuove maglie dell'Arezzo Calcio. A sollevare le polemiche non tanto l'immagine della Madonna del Conforto nella prima maglia di colore amaranto, quanto il video di una modella che indossava la seconda maglia di colore bianco stesa di fronte all'altare del Duomo. Tanto precisiamo una cosa. Io personalmente, con quanto parroco del Duomo, avevo autorizzato a fare delle foto di presentazione. diciamo che quelle, alcune foto, forse non era proprio il contesto adatto davanti e che per alcune persone che poi si sono lamentate con il Vescovo ha destato un po' qualche perplessità. Immagini che dopo una telefonata da parte del Vescovo Andrea Migliavacca sono state rimosse dai canali della società. Sì, ma non certo sono, forse diciamo, inappropriate e luogo inadeguato ma io grandi scandali, sinceramente, non ce li vedo. Questo simbolo, riferendosi alla Madonna del Conforto, afferma Francesca Manzo figlia del presidente e titolare di Reverie Conic il brand che da tre anni veste l'Arezzo è meravigliosamente rappresentato in Duomo proprio per questo avevamo scelto l'interno di quest'ultimo per presentare questa prima maglia che vuole in ogni sua caratteristica omaggiare questa immagine sacra di Maria e portarla in campo con noi. Siamo profondamente dispiaciuti, continua Francesca Manzo, che questa nostra iniziativa sia stata interpretata diversamente in alcuni scatti e perciò abbiamo deciso di ritirare alcune foto fatte all'interno del Duomo. Siamo veramente orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto quest'anno con le tre maglie e ciò che abbiamo voluto rappresentare. Mi viene da pensare a Fra Galdino quando erano messi sposi con Fra Cristoforo dice che quando Agnese e Lucina sono fuggiti di casa perché Don Rodrigo aveva mandato a prenderle e Fra Cristoforo li porta nel rifugio nel convento e Fra Galdino dice ma padre in convento di notte con donne e Fra Cristoforo dice ogni ammunda ammundis tutto è pulito per chi è pulito insomma e così avevano la sua autorizzazione quindi questo è importante la autorizzazione a fare delle riprese, questo senz'altro assolutamente sul soggetto, sulle cose magari se le avessero fatte vedere prima di pubblicarle forse avremmo detto queste cose qui le potete fare benissimo nelle scale esterne che stanno benissimo ripeto il luogo inappropriato però non ci ho visto né la malizia né diciamo così ma una tempesta in un bicchiere d'acqua però la cosa ha preso campo poi è stata travisata anche come se il vescovo fosse il contrario invece è il più favorevole ad avere rapporti con la squadra c'è andato anche un pochino di mezzo lui questo mi dispiace ma c'è anche una squadra della diocesi per cui ah beh sì ma lasciamo perdere quella avrei da ridire qualcosa quella non dà la benedizione no no quello facciano loro pure io sono un'età che ma nemmeno sulle panchine delle tribune ci posso stare comunque questo è un altro discorso però Don Alvaro ti fa Arezzo ah certamente sì 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 certamente viva l'Arezzo bravi va tutto bene grazie alla società per quello che fanno per quello che faranno con tutto l'affetto e la benedizione della diocesi e del vescovo in particolare questo lo posso assicurare al 100% terminerei con una battuta dato che sono esorcista perciò sono del ramo potrei dire così che siccome il diavolo ce l'ha con la Madonna e allora non gli è piaciuta questa storia e ha messo in basti tutto questo casotto sulle maglie comunque forza Arezzo bravi ragazzi e avanti con la benedizione ripeto è tutto il bene della diocesi della Madonna fuori dubbio mio e soprattutto del vescovo che vuole molto bene alla squadra dell'Arezzo rimaniamo nell'ambito dell'Arezzo vince in rimonta contro l'ascoli la squadra Maranto guidata da Troise nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C il risultato di 2 a 1 elimina la squadra marchigiana e permette il passaggio di turno da parte dell'Arezzo l'ascoli era passato in vantaggio in apertura di gara con Corazza all'undicesimo l'Arezzo ha reagito sul calcio di punizione con Guccione che ha impegnato severamente l'estremo difensore bianconero poco dopo è l'ascoli che si è fatto pericoloso ed ha avuto la palla del raddoppio che però si è stampata sul palo ad opera di Duffizi il pareggio è arrivato al 27esimo da parte dell'Arezzo con Chiosa che da fuori area ha fatto partire un tiro potente che si è insaccato per il momentaneo 1 a 1 la partita è rallentata molto per gran parte del tempo rimasto ma al 75esimo è arrivato un assist davvero pregevole prezioso di Guccione un assist che ha permesso a Pattarello di involarsi verso la porta dei bianconeri e segnare il 2 a 1 che è poi stato il risultato finale l'ascoli ha tentato di reagire all'89esimo ha anche pareggiato ma il gol è stato annullato per un tocco di mano da parte del giocatore ospite il prossimo avversario per la squadra Amaranto sarà il Perugia nel cammino di Coppa Italia di Serie C ma andiamo a sentire il parere del tecnico dell'Arezzo Troise e il giocatore Pattarello a fine partita ci tenevamo a dare questa soddisfazione essendo la prima uscita ai tifosi sappiamo dell'importanza delle aspettative che ci sono e quindi l'abbiamo fatto secondo me disputando una buona partita a tratti ma di fronte avevamo un'ascoli che oggi ha dimostrato che se la può giocare con tante compagini e per quanto riguarda noi ci teniamo stretti questo turno non semplice insieme a quello di Pesaro proveremo il Perugia altra tappa fondamentale però è il momento di pensare al campionato da martedì perché chiaramente ci teniamo anche domenica giocando in casa nella prima uscita di campionato a fare bene ci siamo partiti bene poi questo gol insomma che hanno trovato sbagliando qualche tempo di pressione ha condizionato ma questo secondo me poi sarà un po' la costante contro tanti avversari quindi dobbiamo avere dobbiamo continuare ad avere questa mentalità nella reazione in quella che deve essere un'impostazione di gara dove sono rimasti lucidi ma allo stesso tempo ci sono tanti dettagli dove determinano e lì secondo me dobbiamo alzare il livello fare gol è sempre importante quindi penso che la soddisfazione sia tanta avevamo voglia di vincere l'abbiamo dimostrato abbiamo sofferto però abbiamo passato il turno e siamo felici stiamo lavorando bene andiamo tutti su un'unica direzione questo è l'importante ora tra una settimana inizia il campionato e non aspettiamo altro e in ultimo una notizia di mercato sempre riguardante l'Arezzo la società ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il giocatore Samuele Righetti difensore terzino sinistro proveniente dal Lume Zane squadra che milita nel girone A di Serie C classe 2001 Righetti è riduce da una stagione da protagonista tra le file dei Lombardi con i quali ha disputato 31 gare distinguendosi per la sua duttidità in campo il giocatore come vediamo nella foto ha firmato un contratto annuale con la squadra Amaranto questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV grazie per averci seguito